ecco che spettacolo ecco ecco qui a torciano stiamo visitando un po la zona ora io vi mostro corcia come potete antica del del penso del cinquecento come avventuriamoci in questo in questo curriculum ma che ne so molto bello questo corciano vecchio non esiste qua faranno il presepe perché vedo dove vai guarda dove siamo usciti è bellissima la chiesa guarda il campanile fai una giuma del campanile per fare una bella ripesa doppio tap giuma un po caro adesso andiamo a vedere allora sinceramente la portellano guarda questa è una logica della città bellissimo guarda qua alla fine la città è è bello guarda ma che ci levano le camere guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua torre del comune nell'alto medioevo corciano era costituito da un castello una chiesa da questa torre bella questa torre è medievale storica questa torre bella questa è una torre che ha ben 700-800 anni certo guarda spettacolare questa è una torre del 1500 probabilmente o anche prima anche prima ti serve la panchina quando siamo stati possiamo riposare un po' ma dove si guarda guarda quando parla è una torre quando parla non mi ricordi non mi ricordi guarda come sono bello ah si 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 scritti su queste su queste cose antiche qua no no non capire se prendi una caduta al comune ricoccio guarda la particolarità di queste scale abbiamo molto bello molto bello molto bello ma poi con i ciri e ciri si sembra la stessa parte noi lo eravamo ragazzi eh eh non puoi stare guarda mandi e gioco le porte non sono le chiavi ma che ne si ci ha rossato pure ora ci ha rossato veloce veloce perché si fa storia e vengo a vedere qui vediamo ragazzi vieni 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 145 e ma ma vieni la morte idorazione 1580 con fratelli vieni 638 vieni vieni passi anche le macchine queste parti eh sentite non prende la talga eh bravo via del moro qua siamo via del moro ragazzi vieni vieni rione serradio quello sta scritto no quello è un'altra lingua l'altra non è perché c'è il rio reante il mestiere ed ecco tra tutto 4 11 60 ma stai uscendo sento la registrazione dove siamo no no dove siamo andati che bello che bello io francesco innamorato questa innamorata questa è innamorata no mostriamo tutto in un'altra zona ci siamo ci siamo spostati siamo ritornati di dove stavamo prima siamo ritornati